La neve ogni uomo può credersi con acqua, si muove in acqua, dunque alla musica, in primavera trasforma fiughe e torrenti in sinfonie di note bianche. E poi, quando la neve dopo essere trasformata in acqua se ne so, i campi, le piante, gli altri, riprendono il loro colore, pronti per una nuova mutazione. Dalla terra verde c'è l'uomo, inizia ad ascoltare Cristo e non si vede più la terra. Dalla terra verde c'è la disperazione ed era così. Qui da noi a Carmignano ci vivevano delle farfalle colorate che difingevano di coloro e sgargianti qualsiasi cosa che si toccassero. Un giorno le farfalle di Carmignano ebbero un'idea, fare in modo che i fiori non fossero solo qua, ma in più parti possibili. Le farfalle iniziarono a girare e portarono la felicità ovunque, facendo sciogliere la neve e riempiendo fuori. Un giorno le farfalle iniziarono a girare e portarono la felicità ovunque. Un giorno le farfalle iniziarono a girare e portarono la felicità ovunque. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.